Tibullo sappiamo che non ha lasciato testi programmatici, testi in cui pari della propria poetica, ma nell'elegia proemiale Tibullo parla della propria scelta di vita, quindi riserva il testo d'apertura al primo dei suoi libri, in tutto sono tre, i primi due sono sicuramente tibulliani, il terzo invece presenta, comprende alcuni testi che sono tibulliani e altri invece che sono di autori del circolo di Messalla, a cui lo stesso Tibullo apparteneva. Ecco, in questo testo d'apertura, in questa elegia proemiale, Tibullo esibisce la propria scelta di vita, che è una scelta, se vogliamo, anticonformista, tant'è vero che proprio apre dicendo che un altro si occupi pure delle ricchezze di biondo oro e pensi a possedere molti jugeri di terreno coltivato, ma questo comporterà per lui una fatica assillante, perché magari teme i nemici che sono vicini, oppure temerà le guerre che rappresenteranno una minaccia per i suoi possedimenti. Ecco, questo ci mette subito, questi primi quattro versi, di fronte al fatto che tibullo dica no grazie, non mi interessa il possesso dei beni, non mi interessa fare esperienza di ansie perché i miei beni sono messi a rischio, sono in pericolo. E la sua formulazione arriva, la formulazione del suo ideale di vita, arriva al verso 5, in cui dice Mea paupertas, la mia povertà, traducat me, mi faccia passare, vita inerti, per una vita inerte, iners, in ars, priva di arte, una vita da indolente, da inetto se volete. E questo verso dunque, il paupertas annulla l'aspirazione alla ricchezza che altri può avere. E l'iners ci mette di fronte all'idea che all'attivismo, all'energia spesa nelle faccende pubbliche, militari, politiche, economiche, egli oppone una vita d'ozium, in cui si accontenta di poco. Ecco il messaggio subito chiaro fin dall'inizio. Tibullo aspira ad una vita che sia all'insegna della moderazione, delle risorse proprio per lo stretto necessario, ed è quell'ideale di vita che noi riconduciamo al concetto greco di autarchia, parola greca, da cui l'autarchia è italiano, che significa il bastare a se stessi. Ed è un testo che sviluppa questa idea su uno sfondo preciso, in un ambiente preciso, che è quello della campagna. Perché Tibullo si ritrae come un rustico, rusticus al verso 8, quindi come un contadino, si ritrae e anzi dice seram, che io coltivi, nex pes destituat, che la speranza non mi abbandoni, pre e beat, che posso avere a disposizione, che la natura offra quanto di rigoglioso, di florido possa esserci. Sono tutti congiuntivi desiderativi. Cioè lui esprime il desiderio di poter condurre una vita da contadino. E in questo contesto, che per noi è familiare, nel senso che è caratteristica di Tibullo delineare un ambiente a contatto con la natura, che rappresenta per lui un momento idilliaco, una situazione idilliaca di pace, in questo contesto noi vediamo un altro aspetto interessante sul quale dobbiamo soffermarci, che è quello della pietassa, cioè del sentimento religioso. In altre parole, il richiamo alla terra, da una parte, e dall'altro il richiamo alle tradizioni religiose. Per cui si fa riferimento alla religiosità contadina. C'è un verbo al verso 11, che è veneror, da cui la nostra venerazione, che indica un rapporto di attenzione, una situazione di attenzione nei confronti della religione. E anche il libatum del verso 14, libo libare, ci richiama alla pratica delle libagioni, cioè delle offerte di prodotti naturali agli dèi. Questo richiamo alla religione fa sì che compaiano anche dei nomi. Compare la Flava Ceres, cioè la bionda cerere, che sarebbe la Demetra dei Greci. E Demetra era colei che aveva donato all'uomo la spiga di grano, cioè i cereali, la coltivazione del grano. E qui viene nominata per prima. Quindi la Demetra dei Greci è la cerere latina che sta ad indicare un rapporto con l'agricoltura. Più sotto si parla anche di Priapo, sempre legato alla fecondità della terra dei campi. Ma poi al verso 20 si nominano i Lares, che sono delle divinità tutelari, e al verso 36 si nomina Pale, che invece è una divinità sempre del mondo agricolo, in particolare legata all'allevamento e quindi al bestiame. E gli dèi che sono invitati ad essere presenti, ad assistere il poeta, compaiono al verso 37 con Divi. Insomma, ce n'è abbastanza per chiederci, o per sottolineare anzi, come nella visione del mondo di Tibullo, la terra, la vita dei campi, sia collegata alla venerazione delle divinità che per i romani erano tradizionali. Se volete, siamo come proiettati indietro nel tempo, quando abbiamo ritrovato tra le forme preletterarie, quei canti che erano i Carmina Arvaglia, connessi con la coltivazione dei campi, cioè e quindi con la venerazione delle divinità legate alla terra, all'agricoltura e all'allevamento. Alcune espressioni le sottolineiamo. Allora, intanto, versi 25 e 26, che guardiamo dal latino, perché, come il verso 5, ci mette di fronte a quella intenzione di Tibullo di essere contento del poco. Questo è il suono, la metrica del distico elegiaco, porta a pronunciare così i versi di Tibullo. E io possa, ormai, possa vivere, possi dunque un congiuntivo desiderativo, vivere contentus parvo, contento del poco, insiste su quest'idea del poco, dell'autarchia dunque, e non essere sempre dedito, cioè assegnato, impegnato nel lungo viaggio. Dunque, da una parte abbiamo il positivo, la sua idea è che si debba vivere contenti del poco, e dall'altro il negativo, quello che lui nega. A lui non interessa essere sempre in viaggio. Allora recuperiamo il dato biografico che ci dice che Tibullo fu al seguito di Messalla, fu in Aquitania, poi avrebbe dovuto seguirlo in Oriente, ma in realtà questo non avvenne. Ma possiamo leggere tutto il disagio? Vi ricordate anche forse la satira di Ariosto, che era stato invitato dal cardinale Ippolito a seguirlo in Ungheria, e lui dice no grazie, no? Questa è l'idea che si prospetta. La sedentarietà, anche se comporta poco, è il disagio di spostarsi. Piuttosto gli interessa e continua, dice sempre possim, possa, evitare estivo sortus, i calori estivi, anzi il sorgere estivo della canicola, quindi riferimento alla calura dell'estate, sub umbra arboris, sotto l'ombra di un albero, ad rivos, presso i ruscelli, acque pretereuntis, di acqua che scorre. Quindi il tipico locus amenus, stare all'ombra di un albero, fresco, in prossimità di un rivo. Questo per lui non comporta, e proseguo solo sulle parole chiave, né vergogna, né rincrescimento, perché se guardate ai versi 29-31, si legge nec pudeat, non pigeat. Significa che di questa scelta lui non si vergogna, non ha né vergogna, né gli rincresce orientarsi in tal senso. E poi ancora insiste sul basta poco, perché il bestiame di cui parla è definito come exiguo, al verso 33, contrapposto invece ad un gregge magno, si dice nel verso dopo, exigus e magnus sono piccolo e grande. Per questo dice, fure set lupi, ladri e lupi, andate a depredare in un gregge grande, non venite a portare disturbo al mio bestiame che consta di pochi capi. Ancora ritorna, l'abbiamo visto, sull'idea del lustrare, 35, cioè il riferimento alla lustrazio, che era una cerimonia che veniva fatta in un'apposita situazione dell'anno, sempre in relazione ai campi, e sulla mensa, si sottolinea sulla mensa, al verso 37, che è una mensa, e paupere mensa vuol dire che è una mensa povera. Quindi basta poco, è contento di poco, è una mensa povera, in cui, badate, le stoviglie sono stoviglie di argilla, perché fictilis fictile, che compare al verso 38 alla fine, fictilibus, e fictilia al verso 39, vedete che il verso si chiude e il verso dopo si apre con lo stesso aggettivo, vuol dire d'argilla, cioè vuol dire materiale povero. E rispetto a che cosa? Evidentemente rispetto al mondo della città, in cui le stoviglie persino sono ricche, i piatti, i bicchieri. L'abbiamo già trovato questo lo scorso anno nella satira di Orazio rivolta a Mecenate, in cui lui dice che sulla mensa sua ci sono stoviglie d'argilla, per dire che non vada l'apparenza, no? E ribadisce al verso 41 che non ricerca le ricchezze e i guadagni dei padri, no? Non ego, anche forte quel non ego, non io requiro, non vado alla ricerca delle ricchezze dei padri e le divizias e i fructus, e ciò che se ne ricava, i frutti, no? Parva sege satis est. Satis est poi è ripetuto, in anafora, satis est vuol dire è sufficiente, basta, al verso 43, basta una piccola messe, basta riposare a letto, se è lecito, e levare membra e dare sollievo alle membra in un letto consueto, nel solito letto. E poi il verso 45, per noi è un sussulto, perché dice una cosa che a noi richiama Lucrezio, perché dice Quam iuvat, quanto piace, quanto giova, ascoltare, mentre si è distesi, cubantem, i venti immites, i venti che infuriano, i venti che non si placano, no? Ed è per noi un riferimento al celebre passo del naufragio conspettatore di Lucrezio, per noi lettori ovviamente, no? Ma qui lui lo dice perché? Perché evidentemente anche se infuriano i venti, a lui piace starsene disteso a letto e tenere tra le braccia la sua domina, la sua padrona, che termine, parola chiave, no? parola tematica del lessico elegiaco, perché questo, lo sottolinea subito, è una condizione di sicurezza. Il securum, securus, secura securum, compare sia al verso 48 che al verso 77, alla fine, nel penultimo verso, securus etimologicamente deriva da sine curis, cioè securus vuol dire senza preoccupazioni, ed è una parola chiave anche questa, perché significa che quello a cui lui ambisce, l'abbiamo detto, a è la povertà, l'autarchia, b, evidentemente, è la sicurezza, ed è questo che lui si augura di poter ottenere, hoc michi contigat, che possa toccarmi questo, nel senso, nel mio destino preveda questo. Rispetto a questo, possono andare anche alla malora tutti, tutto l'oro e tutti gli smeraldi del mondo, lo dice al verso 51, piuttosto che lui possa provocare con le sue vie, vias, con i suoi viaggi, il pianto della fanciulla. Quindi ritorna su vias, ci soffermiamo, perché ritorna con vias quell'idea della vita in movimento, in viaggio. Il vias introduce la contrapposizione netta tra la scelta di vita di Tibullo e la scelta di vita di Messalla. Andiamo sul latino. Te decet bellare terra, Messalla et mari. Cioè, a te o Messalla conviene, decet, si addice, combattere terra marique, per terra e per mare, affinché, ut, domus preferat, affinché la casa esibisca le prede di guerra, le prede dei nemici. Cioè, significa che all'impresa bellica consegue l'esposizione dei trofei. Me, vedete il te me in antitesi? Me retinent, chi è che lo trattiene? I vincla formose quelle. Me vinctum, cioè vuol dire me legato, tengono, me tengono legato i vincoli, cioè le catene, quelle formose, di una fanciulla bella, di una fanciulla affascinante, e siedo, come un portiere predicativo del soggetto, ante fores duras, davanti alle dure porte. E allora noi abbiamo le porte, gli ambienti della casa di Messalla, che espongono le prede di guerra, il bottino, e invece davanti alla porta di lei c'è lui, povero, inerte, che vorrebbe soltanto entrare per stare con lei. Fra l'altro, il vincla è un'altra parola interessante, perché i vincla, cioè i vincula, le catene, sono quelle che sono riservate ai nemici, ma qui, metaforicamente, sono le catene d'amore. Cioè lui è legato alla sua donna come i nemici che sono portati in trofeo, sono legati perché sono stati sottomessi. Quindi su quel vincla fa perno questa idea della sua sottomissione all'amata. Non nego curo laudari, mea deglia, mia deglia, ecco che compare, come sotto al verso 68, mia deglia, io non mi preoccupo di essere lodato, purché, dum, purché io stia con te, purché io abbia la possibilità di stare con te, queso vocer segnis et iners. Verso importantissimo. Purché io abbia la possibilità di stare con te, queso chiedo, vocer, di essere chiamato segnis et iners. È quasi un endiadi, sono quasi sinonimi. Di essere chiamato indolente e inerte, inetto. A lui non interessa, evidentemente, la fama. Non gli interessa il decoro sul piano pubblico. Lui vuole soltanto stare con lei. E anche se questo comporta, visto che parla di povertà, di ozio, di rinuncia ai beni, eccetera, anche se questo comporta la taccia di indolente, a lui non cambia, cioè a lui non interessa. Quindi, come dire, rispetto alla morale comune condivisa, è alternativo. Poi vado rapido sui versi successivi, perché sono versi un po' patetici, in sincerità, in cui lui immagina che lei piangerà quando lui verrà a mancare, che sarà lei a tenergli la mano, che addirittura non ci sarà in tutta Roma né un giovane né una ragazza, che non piangano quando lui morirà. Un po', come dire, dice molto della sua megalomania, del suo ego, no? Molto sviluppato, evidentemente. E quindi, però, anche in questo testo trova posto, ci sono dei versi in cui si affronta questo argomento. Il topos che arriva adesso è un topos già catulliano. Ricorderete il Carme 5 di Catullo, in cui dice viviamo e amiamo mia lesbia, in cui Catullo invita lesbia ad amarsi consapevoli che il tempo di vita concesso all'uomo è un tempo limitato, la brevitas della vita contrapposto all'eternità ciclica dei soli che tramontano e poi risorgono. Qui lo stesso motivo. La morte è richiamata da questi versi in cui si parla proprio del suo funerale, al verso 65, De Funere, no? Ma proprio perché c'è questo alito della morte, questo spirito nero che incombe, Tibullo conclude, interea, nel frattempo, dun fatta sinunt, finché i fatti lo permettono, iungamus amores. Iungamus è un congiuntivo esortativo, uniamo gli amori, intrecciamo gli amori. Iam Iam, al verso 70-71 in anafora, sarebbe già, già, ormai, ormai, la traduzione del libro propone presto, presto, che ci sta anche bene. Presto verrà la morte coperta nel capo dalle tenebre, cioè vuol dire con il capo coperto da tenebre, presto subentrerà letas iners, l'età inerte, l'età della vecchiaia si intende, nec decebit amare, e non sarà lecito amare, né dire, né pronunciare, dicere blandizias, né pronunciare parole carezzevoli, lusinghe, cano capite, con il capo bianco, con il capo canuto. Mette in evidenza la necessità del carpe diem legato alla giovinezza, già catuliano, già oraziano, a cui si contrappone la morte che incombe è l'età della vecchiaia. Nunc est tractanda Venus Levis. Perifrastica passiva, l'idea della necessità, quindi l'urgenza, bisogna trattare, bisogna affrontare e dedicarsi alla venere leggera, cioè ad un amore leggero, che evidentemente Levis vale come spassionato. Ora bisogna affrontare l'amore spassionato, finché non pudet, non si prova vergogna a spezzare le porte e piace, giova, intrecciare le risse, cioè prender parte alle risse. Allora, vuol dire che adesso bisogna dedicarsi all'amore, anime e corpo, quel frangere postes, quello sbaragliare le porte, questo aprire le porte con violenza, è però anche un'immagine epica, dei guerrieri, sono i guerrieri del Greci che i rompono nel palazzo di Priamo, per dire come immaginano, però frangere portes invece qui è riferito al paraclausizion, cioè al fatto che la porta è chiusa e quindi bisogna aprirla con la forza per arrivare a lei. Di nuovo il non pudet, ic è avverbio, vuol dire in questo, in questo io sono un comandante e un soldato valente. Osa veramente tanto nella sua affermazione perché ha detto finora, abbiamo chiaro, che la guerra non gli interessa, che altri possono far guerra, Messala può esporre le sue prede sulla porta di casa, a lui non interessa, ma lui è bravo a combattere in amore. Attenzione che questo poi lo vedremo espressamente indicato in una celebre elegia degli amores di Ovidio, il nesso tra amore e guerra. In questo io sono un valente comandante soldato, voi signe e tube, sempre termini militari, insegne e trombe, le trombe che danno l'annuncio della guerra, della battaglia, andate lontano, ite procul, e poi c'è ferte vulnera, et ferte opes, viris cupidis, cioè vuol dire andate lontano e procurate ferite e portate ricchezze agli uomini desiderosi. Poi gioca su cupidus, il suo desiderio è stare con lei e gli altri invece sono cupidis come l'inizio di ricchezze. Ego, marcata, la contrapposizione rispetto a voi, andate, ego c'era anche al verso 75, ic ego, quindi qua il gioco, il cerchio si chiude, il discorso stringe, quindi ego in evidenza, io, securus, e sicuro, composito acervo, vuol dire per il mucchio, il mucchio di grano evidentemente composito, messo insieme, per il grano ben accumulato, despiciam, disprezzerò, uno, dites, che sta per divites, disprezzerò i ricchi, e due, despiciam, famem, disprezzerò, la fame, riderò anzi dei ricchi e riderò della fame, perché esse curus significa che è in una condizione di tranquillità dell'animo, ma anche materiale, perché ha ben affermato che gli basta poco.